Liceo musicale Paolina Seccosuardo di Bergamo, lezione di musica a cura delle classi di flauto. Dal sogno alla realtà, il flauto in valigia. Oggi è il mio primo giorno al liceo musicale. Diventerò una flautista. Fai della vita un sogno e di un sogno una realtà. I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono il primo, duro lavoro, il secondo la persistenza e il terzo il buon senso. Il liceo è flauto, ma non solo. Crescere nella liceo musicale vuol dire avere una formazione culturale ampia nelle diverse aree del sapere, per una comprensione approfondita della realtà. Quando qualcuno condivide tutti vincono. Non accusate gli errori. Prima di diventare tali, sono stati un bellissimo sogno. Dopo una prova di flute ensemble, vado a far lezione di esecuzione e interpretazione. Inizierò con un po' di tecnica di riscaldamento e poi via con gli studi e con il repertorio. La profe mi chiederà sicuramente di contestualizzare il brano studiato. Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta. Ogni passo deve essere lui stesso una meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti. Il liceo musicale Paolina Seccosuardo di Bergamo vi dà appuntamento al prossimo anno scolastico. Paolina Seccosuardo di Bergamo vi dà appuntamento al prossimo anno.